Sicurezza, storicità, innovazione, trasparenza, efficienza e eccellenza, sono questi i valori di una banca che opera online dal 1999 e che oggi è tra le banche leader dedicate ai servizi online. Stiamo parlando di WeBank, banca diretta, posseduta al 100% dal gruppo PM, al servizio dei suoi clienti sul web grazie ad un modello digitale di gestione del conto corrente, dei depositi di risparmio, delle operazioni bancarie e dei finanziamenti e mutui di tutte le tipologie. Agli appassionati del nostro blog segnaliamo anche la piattaforma di trading online di WeBank.it che offre una serie di commissioni esclusive sui mercati azionari e obbligazionari italiani per operare al trading online con potenti piattaforme personalizzabili. In questo articolo però vi parliamo di WeBank in merito ad un'eccezionale iniziativa che prende il via alla mezzanotte di oggi, 27 aprile 2011, e dura fino alla mezzanotte del 28 aprile 2011. WeBank infatti offre il regalo un iPad 2 a chiunque apra un conto nella fascia di tempo di durata della promozione e non solo. Portando con se un amico che va ad aprirsi un secondo conto online insieme a lui, quest'ultimo riceverà a sua volta il regalo a un buono da 120€ da utilizzare presso i punti vendita MediaWorld. Il conto WeBank ha zero spese di gestione e garantisce un rendimento annuo fino al 3% e permette di attivare linee vincolate a 3, 6 o 12 mesi. L'iPad 2 dell'Apple in regalo è invece il modello da 16GB di memoria. Per poter aderire all'iniziativa visitate la pagina dedicata sul sito www.webank.it e per saperne di più e condividere ulteriori informazioni, aggiornamenti e opinioni in merito ai servizi WeBank, unitevi alle pagine sui social network Facebook e Twitter.